E Leonardo non si chiude! E Leonardo non si chiude! Primo passo verso la vittoria per i lavoratori della Leonardo S.P.A. di Pomezia. Dopo che l'azienda ha annunciato lo smembramento dello storico sito, è iniziata una lunga mobilitazione, culminata con centinaia di dipendenti che hanno manifestato sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico e quella del Tesoro, al grido di no alla chiusura dello stabilimento. Una delegazione di rappresentanti sindacali di CGL, CISL, UIL e UGL, insieme al sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, è stata ricevuta da entrambi gli enti che hanno annunciato l'intenzione di attivarsi per aprire un tavolo con i vertici dell'azienda e le istituzioni coinvolte. Cosa è successo? Una delegazione è stata ricevuta, una delegazione nostra sindacale è stata ricevuta al Ministero. Insieme a noi ci ha accompagnato il sindaco Adriano Zuccalà, il sindaco di Pomezia, che ci ha sempre sostenuto in queste lotte e sostanzialmente siamo stati ricevuti dal responsabile delle crisi aziendali. Ascoltato le nostre ragioni ha deciso di aprire un tavolo di confronto con l'azienda, con le organizzazioni sindacali e anche con la Regione e il sindaco, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, che ricordiamo è il principale azionista del Leonardo S.P.A., che detiene oltre il 30% delle quote azionarie. Quindi questo per noi rappresenta un grosso passo avanti, perché fino adesso l'azienda non voleva partecipare a tavoli congiunti tra istituzioni e organizzazioni sindacali. Adesso che entra in campo anche il MEF, che detiene le azioni di Leonardo, credo proprio sia molto difficile per Leonardo non partecipare a questo tavolo. Questa azienda vede nel suo interno 700 lavoratori e circa 100 persone dell'indotto. Ahimè, purtroppo per tutta la parte dell'indotto è molto probabile che ci saranno dei licenziamenti. Sono 100 persone che rischiano il posto di lavoro, quindi parliamo di persone che veramente resteranno fuori dal mondo del lavoro. La battaglia che portiamo avanti è anche per loro e soprattutto per loro. Faremo di tutto affinché questo piano dell'azienda venga cancellato e la Leonardo di Pomezia rimanga in piedi così com'è e addirittura chiederemo degli investimenti sulla Leonardo di Pomezia. Abbiamo sollecitato l'intervento dei ministeri e l'apertura di un tavolo interistituzionale. Ci riterremo soddisfatti quando queste richieste diventeranno realtà, ha sottolineato il sindaco di Pomezia Zuccalà.